Vivere con i conigli è bellissimo, c'è solo una parte che mi piace un po' meno, ossia la pulizia. Vi giuro che il fieno finisce ovunque e quando ti metti a spazzare per toglierlo qualcosa rimarrà sempre. Ditemi che mi capite anche voi. Comunque mi fa molto ridere la faccia impassibile dei miei conigli mentre mi guardano spazzare come se dicessero ma ti muove a finire che vogliamo continuare a mangiare fieno.